Identificati i presunti responsabili di quattro rapine a farmacie commesse in questo mese a Pescara, ai domiciliari sono finiti due uomini di 52 e 37 anni. La svolta nelle indagini è arrivata quando il 37enne si è recato da cliente in una delle farmacie rapinate, venendo riconosciuto dal titolare. Abbiamo scoperto i responsabili di quattro colpi, uno tentato messi a segno nelle farmacie del Pescarese, colpi tutti ravvicinati e compiuti con la stessa tecnica. La svolta è venuta del tutto inaspettatamente dal fatto che il rapinatore si è recato per la terza volta nella farmacia Tiburtina, questa volta a fare acquisti come un normale cittadino e lì sono stati bravi dipendenti che hanno ritenuto di riconoscerlo nell'autore dei due precedenti episodi. Da lì di identificazione la perquisizione che ha portato a dei riscontri fortissimi, quasi inattaccabili direi e la ampia confessione dello stesso soggetto in ordine al coinvolgimento negli episodi che gli abbiamo contestato. Il bottino ammonta meno di un migliaio di euro perché sono 560 euro nella prima, una è solo tentata, una rapina e nelle altre due occasioni il colpo ha fruttato 200 euro complessivamente. C'è una terza persona su cui stiamo facendo gli opportuni approfondimenti per verificare la sua effettiva presenza il 9 agosto presso la farmacia di Giambiardino.